Buongiorno a tutti, io sono il vostro Luparo ed eccoci nuovamente qui su... GoFig! Benissimo, io ho fatto l'altra volta offline perché se vi ricordate non riuscivo a trovare quella maledetta medicina appunto degli orchi che dovevo recuperare altrimenti non ci dava... l'orco prigioniero non ci dava lo standard e adesso l'ho trovata vediamo un po' dove ce l'ho qui nell'inventario per farvela vedere un po' quindi adesso gliel'andiamo a dare e vediamo un po' se ci procura questo standard Lulumulu ad essere precisi Allora, ecco, trovo la tua medicina Ecco, ho trovato la tua medicina Fremder non sono male come altri Fremder, bene, Fremder, bene Tarok, grazie a tutti Fremder, tu mi adesso un'ulumulu Fremder helfen Tarok quindi Tarok anche Fremder Fremder brauchen Krotak, Kastak, Dwachkar e Orantak Fremder bringe, Tarok facendo un'ulumulu Fremder, Miseria Voglio portare gli a quanto sembra delle ricette Allora, si tratta di Krortak, Kastak, Dwachrak, Ortantak Comunque si si pronunciano Pronunciano, Allora Cosa significa Tzak, eh, Kastak Sein Horn von Schattenläufer Horn spitz wie Dolch und hart wie Stein Wo findet man Schattenläufer? Leben in Wald oder in Höhle Nicht mögen Licht Sein sehr gefährlich Fremder aufpassen Dwachkar Dwachkar? Was ist das denn? Sein Zähne von Sumpfhai Wenn Zähne beißen Opfer dann nie wieder loslassen Wo finde ich Sumpfhai Viele Sumpfhai bei Lager von Menschen Lager in Sumpf natürlich Was ist ein Ortantak? Was ist ein Ortantak? Hauer von großes Troll Machen großes Löcher in Beute Troll, dove trovi Troll? Wo finde ich einen Troll? Troll leben in Bergen Troll leben viel Platz Fremder gehen suchen in Nordberge aber passen auf auf Faust von Troll Faust treffen, dann Fremder fallen von Berg runter Ich muss weiter Fremder kommen wieder Fremder kommen in Nordberge Perfetto, allora Adesso noi dobbiamo andare a recuperare Questi... Queste cose appunto Che ci ha dato Che ci ha detto L'Orco Pigioniero E dopodiché Eh? Parola del vikingo L'hanno stato Che ci fa a terra? Mwah Strano, strano, strano Perfetto Allora io direi che adesso Farò un piccolo cut Andrò a recuperare appunto Queste cose E niente Magari vi farò vedere Le battaglie che farò Mentre le andrò a recuperare E poi ci rivedremo Praticamente Nuovamente Quando daremo All'Orco Pigioniero Le sue cose Perfetto A tra poco ragazzi Allora Prima di andare a recuperare Quello che ci serve Direi che prima di tutto Sono ritornato qui a Campo Nuovo Per recuperare ovviamente L'armatura Di I vols E poi Ho luttato anche Questa bella ascia Voce del guerriero La voce del guerriero Che ho trovato Al di fuori Della nuova miniera A cui In cui ci serve Vediamo un po' Cosa ci serve 12 punti forza Nettamente migliore Della nostra Parola del vikingo Adesso impariamo Allo Impariamo subito Intanto L'arma due mani Livello 2 Perfetto Grazie per le informazioni Però adesso aumentiamo la forza Da bis... Kannst du mir was beibringen? Ehi Allora forza Allora forza 10 11 E 12 Grazie mille Vediamo un po' Allora Adesso abbiamo Guardate Da 66 A 96 Voilà Guardate che ascia gigantesca Perfetto Adesso vediamo un po' Nelle nostre statistiche Allora Arma due mani Maestro E potremmo aumentare Tra l'altro ho preso questa balestra anche Balestra pesante Il nostro arco attuale ci dà 40 Quello ci dà 90 Quindi la balestra Mi piace Anche se sono un amante dell'arco Normalmente però E' ovvio che la Che lascia Sì che lascia Che la balestra fa molto più danno Allora comunque Adesso andiamo da Wolf Gli diamo le corazze Dei pitocchi di miniera E ci facciamo dare Un bel regalino Vediamo quanto ce la fa costare Adesso questa cosa Anche se Non ricordo male Non credo che ce l'ha da subito Ma vediamo Questo ci impara l'arco Vabbè ma l'arco Ormai noi Adesso andiamo la balestra Allora ho raccolto molte Corazzi di pitocchi di miniera Ich habe jede menge Dieser Mindcrawler Panzerplatten eingesammelt Fantastisch Ich werde mich gleich An die Arbeit machen Wie lange wirst du dafür brauchen? Ich habe nicht Die geringste Ahnung Es ist eine komplette Neuentwicklung, Mann Schau einfach Ab und zu bei mir rein Wenn du in der Nähe bist Hm Und diese Information Gibst du mir völlig uneigennützig Nicht ganz Wenn es mir gelingt Aus solchen Platten Eine gute Rüstung zu zimmern Werde ich sehr schnell Sehr viel Ach, lassen wir das Diventerà ricco Ok ho capito E niente Allora adesso Vediamo Riposiamoci Magari Hey du Si, si Un attimino Geh raus Oder ich hole die Wachen Hey du Si, mi tolgo delle Palle subito Dove sei? Wolf? Ecco di qua Ce la E pronta l'Armatura? Come vai Lavoro sulla nuova armatura? Wie weit bist du mit der Rüstung? Dauert noch, Mann Diese Platten sind verdammt harter Tobak Ich hab Gib mir noch etwas Zeit Mediamo Ridormiamo Hey du Lass uns lieber Hey du Hey du Hey du Ok Adesso deve essere pronta Te ho dato 3 giorni Ma dove salta? Ma dove spuga Poi? Wie weit bist du mit der Rüstung? Dauert noch, Mann Gib mir noch etwas Zeit Allora niente Significa che andremo Prima a recuperare Tutti gli oggetti Che ci servono E dopodiché Sperando che ci da L'Armatura Comunque Abbiamo questa ascia Spettacolare Guardate adesso Faremo la rembaccio Bene Ci vediamo troppo Troppo Ci vediamo dopo ragazzi Luparo Versus Certola di fuoco Cerco di fuoco Osalto a Man Certola di fuoco Dio Ci vediamo Sc lacking luparo versus squalo di palude luparo Grazie a tutti.